Mi fa piacere portare con me questo braccialetto che mi hanno regalato alcuni imprenditori ucraini, c'è un pezzo di acciaio che viene dall'ultima produzione della città martire di Mariupol, produzione delle acciaierie di quella città, vogliamo anche manifestare solidarietà al popolo ucraino. Dovamo all'unice bulbissare? Questi aspettiamo a fare il prezzo di un'estisi. E poi, dal palazzo, noi ci faremo molti b2b. Siamo listati per un'importante investimento in l'Ukraine. E noi stiamo aperti per l'investimento in l'Ukraine e l'internationalizzazione nostri compagni è una priorità. Siamo listati per supportare l'Ukraine come un'auto completa dell'Unione europea. Unione, l'Ukraine sarà parte di questa Unione e anche di parte dell'interno interna europea. Questo è importante per fare la partecipazione per questa partecipazione, anche per le nostre compagnie. Siamo totalmente in favorito di un'eventura di l'Ukraine e l'Italia. Questo è stato molto importante. Questo è stato un giorno molto importante. Abbiamo un buon incontro con l'Ukraine ministra Perinale. Abbiamo anche con il ministro di Foreign Affairs, mio amico Kuleba. Abbiamo parlato delle problematiche più importanti oggi con i nostri amici. Grazie. Abbiamo supportato questa cooperazione tra l'Italia e l'Ukraine. Grazie. 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 Grazie.